Buona giornata amici, eccoci pronti per la nostra segna stampa mattutina. Oggi è giovedì 17 febbraio 2022, il sole solgerà tra poco alle 7.03 proprio tra alcuni minuti e tramonterà alle 17.40. Le giornate cominciano ad allungarsi fino ad arrivare un pochino, le giornate insomma il sole, ecco le giornate di luce fino ad arrivare all'equinozio di primavera. Cominciamo la giornata a guardare il santo del giorno che è un santo italiano più vicino a noi rispetto a quelli che subirono le persecuzioni durante l'impero romano. Si tratta del beato Giuseppe Baldi, il beato che nacque a Poignago sul Garda nel 1843. Fu un ragazzo fin da giovanissimo ed educato alla religione cattolica. A 16 anni entrò in seminario e fu consacrato sacerdote a 22. Fu parroco e insegnante. Visse una vita molto molto attiva, molto prolifica. Istitui scuole, una società di mutuo soccorso, quindi una cassa di risparmio sociale. Fondò anche un pio sudalizio di donne chiamato le Ancelle della Carità di Santa Maria del Soccorso. Ancelle che si occupavano di assistenza domiciliare ai malati. Una istituzione antelitteram perché anche oggi, soprattutto da parte di associazioni private, questo è un servizio che viene reso con grande importanza. Visse dunque una vita molto prolifica e attiva fin quando non si ammalò e morì nella parrocchia che aveva servito per oltre 38 anni. Dunque un esempio da imitare. E diamo un'occhiata ora alle previsioni del tempo. Vediamo che il tempo si sta rimettendo. Ci sono meno nuvolette oggi rispetto ai giorni passati. Le previsioni dicono che ci sarà nella giornata odierna un tempo stabile, con cieli leggermente offuscati dal passaggio di nubi alte. Le massime arriveranno fino a 17 gradi, 20 e più moderati da sud-ovest rispetto ai giorni scorsi. E iniziamo oggi la rassegna stampa a partire dal resto del Carlino. Vediamo che l'apertura è dedicata alla protesta che è iniziata in Via dello Squero, per contrastare la posinopera della centralina che dovrebbe dare corrente all'impianto di sollevamento acque di Piazza Amendola. Maxi cabina elettrica al Porto Canale. L'assessore ai lavori pubblici Tonelli dice ma almeno così ne basta una, perché altrimenti ne sarebbero state previste ben due. La replica dell'assessore dopo le proteste in Via dello Squero, solo un'ipotesi ha detto decideremo con i cittadini, ed è previsto un incontro con i residenti di Via dello Squero, residenti che hanno iniziato a rendere più evidente la loro protesta, esponendo questi lenzuoli nei terrazzi. Ce n'è uno solo attualmente, ma oggi probabilmente ne verranno esposti di più. L'affondo anche dei partiti politici di opposizione. Oggi abbiamo l'Udc che interviene e dice che il sindaco Seri deve fare basta di procurare danni alla città, secondo la visione ovviamente dell'opposizione. Tire Pedoni in Viale Danti si rimette mano al progetto. Si sta cercando una ricomposizione tra le proteste dei residenti e le esigenze delle ditte che lavorano nel porto, come la Gniucco Promo, il cui insediamento ha reso ancora più attivo, più prolifico, diciamo così, il traffico dei grandi mezzi di trasporto, dei tir. E c'è stato un incontro con il prefetto, tra l'amministrazione e la Gniucco Promo, per cercare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Insomma, la sicurezza dei pedoni e la possibilità, appunto, anche dei camion di trasportare tutto ciò che serve alla vita lavorativa del porto. Ed ora parliamo un po' di carnevale, perché stiamo entrando, anche se non si avverte, come negli anni scorsi, questa atmosfera gioiosa, così colorata, delle carnevale. Insomma, però, è sempre carnevale. Ebbene, iniziano le manifestazioni a Fano, anche se Fano dovrà rinunciare anche quest'anno al corso mascherato dei carri in Viale Gramsci. A Palazzo Bracci verrà inaugurata, sabato prossimo, verranno inaugurate due mostre di Pierluigi Piccinetti. Le esposizioni raccontano 50 anni del lavoro artistico del talentuoso carrista. Pierluigi Piccinetti non è solo un carrista, è un artista importante a tutto tondo, un grande pittore che sa usare moltissime tecniche, quelle dei colori a olio, quelli dell'acquarello. Sa anche usare molto bene, per quanto riguarda il carnevale, la gomma piuma. È stato uno dei manipolatori, inventori di questa tecnica, tanto che è stato scritturato anche dal carnevale di Viareggio. Ma i quadri di Piccinetti, che saranno esposti a Palazzo Bracci e Pagani, devono essere guardati, devono essere ammirati, perché c'è tanto Fano dentro, per quanto riguarda i paesaggi, i volti, le atmosfere, e c'è anche tanto carnevale. Insomma, almeno lì si assapora l'atmosfera della festa. E c'è stata anche un'altra atmosfera della festa. Ieri pomeriggio, al Caffè del Pasticciere, dove Stefano Ceresani ha mostrato il dolce del carnevale. Quest'anno non ci sarà il getto al carnevale di Fano, ma Stefano Ceresani non ha dimenticato il detto che il carnevale di Fano è il carnevale più dolce d'Italia, e quindi deve essere anche caratterizzato dalle dolcezze. E quelle che ha fatto Ceresani sono veramente delle opere d'arte. Ed ora passiamo ad altri problemi, quello per esempio dell'andamento demografico della città. Gli ultranovantenni più del doppio dei neonati, lo ha evidenziato il sociologo Maurizio Tommassini. L'analisi demografica della città di Fano evidenzia come la città invecchia. Nascono meno bambini, però ci sono più anziani. Più anziani che spesso hanno bisogno di servizi sociali, perché poi le malattie si incancrediscono, diventano stabili nelle giornate. Insomma è bello invecchiare, ma sarebbe bello invecchiare in buona salute. Comunque anche i cari Giver sono anziani, i più hanno almeno 65 anni, dice Tommassini. Che cosa accadrà poi? Un punto interrogativo da sciogliere. Che reparti ci saranno nel nostro ospedale? Ebbene, questo lo chiede invece l'ex consigliere regionale del Partito Democratico, Renato Claudio Minardi, che cerca un po' di sminuire l'euforia che è stata seminata per quanto riguarda i fondi assegnati alla rivalutazione delle Santa Croce di Fano. 16 milioni di Minardi, come ha avuto l'ospedale di Pergola. Insomma non è una cifra eclatante, ma soprattutto secondo Minardi non è stato chiarito che cosa si farà del nostro ospedale. E si rimprovera anche l'annullamento di quel contratto che è stato stipulato nel 2018 tra Comune e Regione dove si parlava di 80 posti letto socio-sanitari e i 50 della clinica privata che facevano parte di questo protocollo. Insomma lui dice che non si può unilateralmente sopprimere questo protocollo che è stato firmato da due enti che hanno personalità giuridica. Ancora sulla pagina sulla pagina del nostro Entroterra vediamo subito che invece un giudizio positivo sui finanziamenti della Regione viene dato dal sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Ok dice alla Casa della Comunità ma con tutti i servizi. Mondolfo il sindaco è soddisfatto per i 400 mila euro che sono stati assegnati al Bartolini. Ora si pensi alla RSA ha dichiarato vaccinazioni pediatriche e guardie mediche sono importanti. E guardate come l'ospedale Bartolini assomiglia un po' magari un po' più in piccolo all'ospedale Santa Croce di Fano. Sarà istituita una casa della salute. Una casa della salute che non solo si occupa dell'aspetto sanitario ma anche dell'aspetto sociale appunto delle persone. Un'avventura in sella attraverso Trento Borghi e un'iniziativa che organizza Fano Corre. La prima edizione di un viaggio turistico che in tre giorni farà riscoprire le bellezze del territorio sulle calendario. il primo appuntamento è segnalato tra l'8 il 9 e il 10 aprile dalla città della Fortuna a Monbaroccio un itinerario che attraversa la valle dell'Arzilla tra le colline di una grande suggestione poi in aprile sarà primavera e quindi l'aspetto sarà ancora più bello. Ad Urbino si protesta per il progressivo inserimento del privato nelle strutture sanitarie. Questa volta è la CGL che evidenzia la sua protesta col privato dice nella sanità si rischia il caos. A Urbino sono coinvolti in questo senso diversi aspetti sanitari dal punto nascita al pronto soccorso alla chirurgia e medicina generale alla lungondegenza alla nefrologia ed ortopedia. Insomma nella sanità pubblica di Urbino ma anche quella di Pergola entra il privato e si rischia caos e incertezza ha detto il sindacato. Invece una bella iniziativa che si sta organizzando nella città ducale per quanto riguarda l'anniversario del Duca Federico è quello dello studio della valorizzazione delle formelle che una volta decoravano la panchina esterna della facciata di Palazzo Ducale ora sono state poste all'interno per preservarle appunto dagli eventi atmosferici. Sono delle formelle di grande significato anche tecnico perché evidenziano come si realizzavano le macchine da guerra anche le macchine ad uso civile per la costruzione degli edifici sono macchine ad uso civile e militare che fine al 1756 ornavano la spagliera del sedile di Palazzo Ducale e sono belle da vedersi ma soprattutto da capirsi sono interessanti da capirsi per vedere un po' come viveva la corte e la città in quel periodo ovvero nel rinascimento. L'entroterra si rilancia dall'Expo di Dubai è un articolo questo che riguarda la presenza del vicepresidente della regione Mirko Carloni a Piobbico all'istituto Celli di Piobbico il responente politico ha illustrato senso e programma delle giornate marchigiane a Dubai un progetto è fatto ha detto per mettere in evidenza il meglio che hanno le nostre imprese e in questo c'è senz'altro anche la cultura la scuola e la formazione per quanto riguarda invece Pesaro vediamo che monta la protesta delle istituzioni per quanto riguarda la decisione di Marche Nord di non assegnare la direzione dei pronto soccorso al dottor Umberto Gnudi che era l'ex primario facente funzioni appunto di questo importante servizio come sappiamo è stato nominato invece Giancarlo Titolo un efficiente professionista che era titolare solo del pronto soccorso di Fanore invece è titolare appunto di entrambi pronto soccorso del San Salvatore e del Santa Croce guerra politica su Gnudi il sindaco di Pesaro Ricci interviene dice sto con lui ovvero con Gnudi mentre la Morani dice non era allineato alla regione e per questo è stato così scartato dopo la scelta di titolo per il pronto soccorso c'è una polemica sulla mancata conferma del primario che ha guidato il reparto dal 2020 ancora scusate ancora proteste per quanto riguarda la direttiva Bolkestein ovviamente si trovano in grosse difficoltà i bagnini che hanno investito molto sulle loro concessioni di spiaggia e qui abbiamo la protesta di Stefano Tombari uno dei bagnini storici di Pesaro che spiega le sue preoccupazioni ma anche quelle della categoria imprese familiari tutelate non so se sarà più così dice cosa farò io se un altro concorrente mi toglie la concessione a 60 anni non ho altra attività da svolgere dubbi le tutele per chi fa questo lavoro da anni sono previste ma se chi partecipa alla gara offre di più cosa succede è l'interrogativo imperante quanto costa una concessione in media 40.000 no 4.000 euro ecco tutti i dati sui canoni pagati dai gestori delle spiagge cittadine li vediamo qui in questa tabella vediamo che ci sono in parte molto ci sono in parte costi molto elevati come i 23.000 euro 960.000 sono 23.960 euro del ristorante Moletto è un caso questo unico ai 13.364 dello chalet a mare ai 9.446 di Itaca Beach mentre gli altri si attestano dai 4 ai 5.000 ma ci sono anche chi paga c'è anche anche chi paga 2.000 euro insomma la media è 4.000 euro a concessione Pesaro Studi pronta a rinascere due Atenei ripartono da Ingegneria l'Università ritrova la sua vecchia sede a Pesaro in Viale Trieste è una sede decentrata dell'Università di Urbino dopo i lavori di ripristino il prossimo anno saranno avviati nuovi corsi anche in inglese della Politecnica di Ancona e della Carlo Bo di Urbino l'idea del ritorno al passato è soprattutto di Francesca Francoellucci assessore del Movimento 5 Stelle il casellino scontro centrodestra Grillini insomma la viabilità fa sempre discutere quando si tratta di realizzare nuove strutture c'è chi dice che il casellino di Santa Veneranda porta vantaggio alla città e invece protestano i residenti perché hanno paura di un incremento di traffico sotto le loro case trasformisti lecito cambiare idea il Consiglio Comunale di lunedì ha dato parere favorevole al progetto definitivo di Santa Veneranda ma non sono mancate le contestazioni le bordate l'opposizione dice eccessivo impatto ambientale il PD replica un'opera strategica insomma il casellino non è importante solo per Pesaro ma lo è importante anche per tutto il resto del territorio ed ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo che l'apertura è dedicata ad altri lavori ad altre opere che verranno realizzate nel bilancio triennale che è stato approvato dalla Giunta finanziati i lavori per 25 milioni di euro con il PNRR la città sarà più sostenibile ed è un elenco di lavori molto importante che verranno finanziati non solo con il PNRR ma anche con il bilancio con i soldi del comune di Fano del bilancio del comune di Fano alla pista dell'Arzilla alla ricucitura urbana delle ciclabili 3 milioni altrettanti anidi e materne ma 6 milioni verranno dati alla ristrutturazione di casa Bartoli quella casa che si trova nella zona sportiva della trave per cui sono state ipotezzate tante destinazioni tante funzioni ma finora è rimasta sempre isolata e poi vediamo che si parla di sanità in questa pagina si parla di sanità adesso parla soprattutto dei finanziamenti che la regione ha messo a disposizione dell'ospedale di Fano c'è Francesco Baldelli l'assessore Baldelli che parla di questo argomento e illustre all'impiego dei 16 milioni stanziati per l'ospedale per l'ospis addirittura sono reperiti 7,25 milioni di euro perché ai 5,5 annunciati dalla regione si aggiungeranno 1,75 mila euro per l'efficientamento energetico della struttura già messi a disposizione e poi voglio dare grande importanza a questo box inserito appunto nell'articolo che riguarda l'ospedale che parla di una proposta del Movimento 5 Stelle in questo caso parlano Marta Ruggeri che è il consigliere regionale del Movimento e Francesco Panaroni che è il consigliere comunale qual è la proposta che fa il Movimento 5 Stelle è quella di intitolare l'ospis che verrà realizzato nell'ospedaletto di Fano ad Alessia ad Alessia Alessia era la nipotina di Elmo Santini che da allora ha fatto di questa battaglia una ragione di vita grazie soprattutto ad Elmo Santini e all'associazione Maruzza se il centro di cure pagliative di Fano l'ospis verrà realizzato a beneficio di tante famiglie non solo fanesi non solo marchigiane ma anche abitanti residenti in altre regioni del centro Italia perché questo centro nel centro Italia non esiste quindi verrà realizzato a Fano grazie appunto a queste persone dal covid all'alcol sei conferenze sulla salute un ciclo di sei conferenze illustrato ieri dall'assessore Cucchiarini per quanto riguarda Fano Cammina l'associazione che si occupa in modo particolare della salute delle donne e che organizza ogni mercoledì una camminata di un'ora la sera dalle 20 e 30 alle 21 e 30 appunto lungo la costa oppure il centro storico di Fano insomma basta camminare perché camminare vuol dire salute sei incontri a partire da oggi saranno tutti online basta collegarsi nel sito del comune oppure in quello di Fano Cammina e oggi si parlerà di covid si parlerà di vaccinazioni e qualcuno potrà fare anche delle domande agli esperti che saranno in trasmissione tra Carnevale Acquerelli l'arte del contemporaneo la fondazione Carifano dedica un'antologica alle opere di Pierluigi Piccinetti e qui abbiamo l'iniziativa invece di Stefano Ceresani il pasticcere che ieri ha presentato i suoi dolci distretto terre marchigiane patto con medicina naturale per quanto riguarda Fossombrone una validissima intesa quella che è stata raggiunta con l'istituto di medicina naturale di Urbino e il distretto biologico terre marchigiane lo evidenzia Sara Tomassini che è referente del distretto salute biologico un binomio imprescindibile Tomassini illustra l'accordo poi vediamo ancora sulla pagina della Valcesano siamo a Mondolfo casa di comunità a Mondolfo Barbieri più servizi sanitari ed è l'evidenza la soddisfazione del sindaco di Mondolfo per quanto riguarda i finanziamenti assegnati alla struttura dal regione alla struttura del Bartolini ancora su il corriere Adriatico Senigaglia Nuova Marchetti ok bipartisan divisi sullo striscione delle foibe sono due articoli sono due argomenti che riguardano appunto questo articolo la nuova Marchetti e la scuola Marchetti la nuova scuola che è stata votata alla unanimità ieri dal Consiglio Comunale di Senigaglia per quanto riguarda questa nuova struttura insomma che costituirà abbiamo qui questo bellissimo rendering che evidenzia come verrà realizzata e poi c'è l'altro argomento che riguarda lo striscione contro le foibe apparso fuori dall'ufficio dall'ufficio del vediamo la seduta dunque vediamo un po' bello la solità dell'opposizione del Presidente Bello per lo striscione contro le foibe apparso fuori del suo ufficio la settimana scorsa poi la seduta del Consiglio Comunale è iniziata con un minuto di silenzio per lo studente che è deceduto in seguito a quell'incidente stradale al quale poi si dedica un'intera pagina lo strazio della famiglia non doveva essere lì chi ha sbagliato paghi il sedicenne morto nello schianto parenti e amici alla Camera Ardente insomma veramente un episodio che ha destato clamore a livello nazionale vediamo anche la pagina di Pesaro sul Corriere Adriatico anche qui abbiamo addirittura due pagine che riguardano la situazione del pronto soccorso ora tutti coniudi il sindaco si schiera contro Marche Nord e dall'altare alla polvere la parabola in 50 giorni simbolo della lotta al covid poi denigratore scaricato per le sue critiche ovviamente si parla di Umberto Gnudi ex direttore del pronto soccorso di Marche Nord la rotatoria delle silicate sondaggi dei tecnici dell'ANAS però per l'inizio dei lavori e la progettazione ci vorranno ancora molti mesi perché la progettazione va a rilento e c'è anche lo spettro del rinvenimento di alcuni reperti archeologici ancora da realizzare la variante la fase burocratica non è semplice ci vorrà del tempo ma questa struttura è molto importante perché ancora lì si verificano degli incidenti e poi proteste ancora per il casellino di Santa Veneranda un grande impatto e poca utilità il centrodestra critica il partito democratico e rileva il caro prezzo che pagherà la città per la mancanza di coraggio abbiamo parlato quali sono le posizioni in antitesi per quanto riguarda il casellino di Santa Veneranda i residenti la pensano in un modo gli amministratori di maggioranza in un altro la ciclovia adriatica sarà intitolata Marco Pantani è il tratto che da Pesaro porterà a Gabicce e verrà intestato al nome del pirata la giunta accoglie e approva la proposta del consigliere Gambini ok anche dal sindaco Pascuzzi insomma tra Gabicce e Pesaro c'è sintonia nuove spy cam in centro controlli anche alle moto verranno sorvegliati i sei ingressi al centro storico che al momento sono sprovvisti di impianti di vigilanza nuove risorse dunque per coprire i sei varchi non presidiati e altre zone sensibili presto ci sarà l'assunzione di cinque vigili urbani la protezione civile apre agli under 18 poi abbiamo delle notizie di cronaca cinque studentesse accusano il docente era un professore del Benelli per carezze proibite e strusciate in classe le ragazze hanno 16 e 17 anni ma la loro testimonianza è posta al baglio per le capacità testimoniali appunto delle stesse ragazzine e siamo in conclusione vi segnalo soltanto l'emozione della vis che ha battuto la lucchese per 2 a 1 e sale più su in classifica primo tempo offensivo con la rete di Ferrini e il pareggio di Belloni quindi un nuovo successo per i biancorossi ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno vi invito a guardare Occhio alla notizia di Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 buona giornata a risentirci a rispondenza a rispondenza a rispondenza di confinanza